Ehi, se ti interessa ancora quel kit di sospensioni, aiutami a provare un altro tracciato. Inizia lontano, in collina. Ti dico io dove. Ok, un altro giro. Se farei bene, consegnerò quel kit di sospensioni direttamente a Lucas. Bene. A destra. A destra. A destra. Oramai conosci abbastanza bene, Lucas. Credi che gli piaccia fare il meccanico? Credo di sì. È sempre al lavoro. Perché? Quando ha preso quel posto, ha smesso di correre. Completamente. Parliamo di uno che ha corso tutta la vita e poi... Basta. Come ho detto, è molto buato. Questo non fermava suo padre. Roberto aveva il garage, cresceva due figli da solo, eppure vinceva gare ogni settimana. Era il gentiluomo, l'artista della pista. Non puoi pretendere che Lucas sia a quel livello. Ma Roberto sì. Forse il problema era quello. Ed ecco perché corro solo per divertimento. Non ha senso se non ti piace. Amen. Ora a destra. Il posto è qui. E' questo. Ci siamo. Vici, quel kit di sospensioni è tuo. Il posto è il posto è il posto è il posto è il posto. Lo vuoi davvero quel premio, eh? Questi non ti renderanno la vita facile. Continua così. Continua così. Sì. Continua così. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vai! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.